vedi tu Anna lì ah veramente bravo basta parlarci parlaci basta che fai esamina basta che fai esamina per vedere si difesa senza armatura forse pure io la dovrei attivare difesa senza armatura io che livello sono? sono livello 3 il tuo corpo è resistente come un'armatura mentre non indossi armatura aggiungi il tuo modificatore di costituzione alla tua classe armatura ma secondo te che è meglio che ci possiamo fare quella che è sono in ferie come stai pure tu in ferie secondo te che ci dobbiamo portare scusa quella quest'altra quella l'altra quell'altra che quell'altra tizia che ci stavano portando dietro fino adesso che è? è la guerriera allora meglio quella la guerriera si analisi si ti vuoi portare quella ti porti quell'altra la gestisci tu aggiungi il tuo modificatore di costituzione alla tua classe armatura però stiamo dicendo che stiamo dicendo che io al momento ma il mio cosa di costituzione è piccolo questa cosa dell'armatura ma mo non mi conviene proprio non mi conviene proprio classe armatura mo' è 11 se io tolgo aspetta ci stai provando con me attrazione dei cibo canazze tu sai come fanno i batti le porte in cuore se ti vuoi ammuccare con questo ho fatto una paura fai tu fai tu com'è quello che vu che lei ha detto io sto morati io voglio ridere il mio corpo con te allora facciamo così quindi devo togliere anche sono ruzgata ma la mia risposta è no che ne va dire sì o no? vai fai sesso con me guarda le interpreta ma che ridi tu proprio l'interpretazione non sai dove sta di casa veramente ma che è il mio corpo? ti dà quel man dentro poter dire la loga del mio corpo oh ma non viene in me e gli hai detto di me? sì no allora mi conviene dai mi conviene perché faccio così gli stivali vuole chiudere la nostra storia no se metto questo faccio finire il track quindi no devo mettere questo mi ha dato la storia con lei e non ancora però questo ho detto che è il primo accambamento notturno mi viene a trovare nel mio sacco a pelo guarda come sono già che rispetto il consenso cioè ti chiede anche nel mondo di cosa c'è il consenso comunque quindi più due alla classe armatura ok uno sono un cazzo di armadio sì alla fine è convenuto però devo cambiare a lui perché a lui gli mettiamo un po' di protezione in più perché pare il cazzo l'ho combinato poi gli mettiamo ma che sono più due scariche elettriche bisogna sti a sti fanno da sti cosi tre cariche elettriche la prima tra le molte invenzioni elettriche create da l'apparecchiava le loro sole vecchie consumate che evitava di scintille al minimo movimento a lui non è competente non le può prendere vabbè non scherzando però a lui gli posso dare no a lui gli posso dare no 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 a senti allora ci sta che stai facendo eh ci sta vai lascia stare questi qua in gab tu questa sei tu che cosa c'hai alle mani tu che ti faceva questo rapidità di mano più uno quando colpisce una caduta con un attacco e mischia impone una penalità e comunque ok mischia quindi con le mazzate toglie torna indietro ci sta un paio di scarpe purtroppo ok allora mo vedo vedo un attimo perché ci sono degli stivali che ti danno delle cariche ti direi di metterle ma qua non mi escono dove stanno guarda non mi escono forse mi escono solo le cose che ho io in mano qua no no sono quelle là che perché qualcuno le sta usando l'ho messa a qualcuno no scusami vai tu ci hai due ma però fai girare le palle proprio puoi andare sui puoi andare sui cioè non sono stato adesso sulle istitane vai sull'istima premi vabbè al domenico non sono usciti è inutile che fai tanto a bollini allora equipaggiato da questo equipaggiato da ti vai adesso perché non ti escono a te perché ce li ho io forse te li devi prendere perché tu vedi solo la roba tua e del compagnello tuo quindi io ti devo passare per forza di cose perché non li vorrei dare a will mi sa che conviene che ce le hai tu se solo li trovassi i maledetti lei vanno a tua i andiamo a eccoli qua ok poi ce l'hai pure tu vai vedi se ti escono potrebbe anche se che non sei comp... mamma mia è domenico a volte mi invogli a guardare otto ore di gioco e ancora non ingarri tre tasti allora non sono questi quando state eccoli qua tu li senti la fulmina stanno di qua si scusami allora che cosa dice le cariche di fulmina sono una sorta di caratteristiche i bandi di fulmina associati a oggetti materiali come amm e forniscono assistenza durante il combattimento acquistire questa funzione utilizzata non è molto... che succede? vieni a vedere guarda vieni a vedere vieni a vedere vieni a vedere ha una serie di elementi definiti che il genere utilizza le cariche di fulmina spiegazione per vedere essendo una parte consigliata della tua vita può fornire anche un P1 danno da fulmine con un tiro per colpire può anche colpire il nemico con un D8 danni da fulmine ma finché ciò accada devi prima ottenere 5 cariche di fulmine ah quindi deve arrivare però beh però lui te ne dà 3 ogni volta che quando scatto effetti un'azione simile azione simile allo scatto esistono vari modi come una volta che li usi tutti e 5 le cariche vengono consumate se non guadagni 5 cariche perderai automaticamente le cariche di fulmine attacchi regolari con l'uso di determinati oggetti se puoi attivare l'utilizzare l'ightning charging se accumulo fino a 5 tutti i fondi scintillanti una lancia scintillante un'arma veloci piedi leggeri scatto vabbè dai abbiamo capito facendo l'esplosivo vabbè più ne hai chiaramente più accumuli carico vabbè grazie capito e quindi arrivare a 5 e poi lui attiva l'attiva su comunque su oggetti su attacchi quanto fa? un D8? un Fulmine con tiro più uno per colpire può anche colpire un nemico con D8 danni da fulmine è ottimo però praticamente dovrei fare per attivare due gare devi fare due volte lo scatto in una penso in una sessione di combattimento che cosa succede? solo che io mo' mi chiedo ma io io mi chiedo ma io mo' devo andare girando così con la mutanda non posso mettere qualcosa ah gli posso posso andare in giro che hai vestito ah io poi avevo trovato questo pugnale però non è eh eh no è un pugnale che te lo puoi mettere nell'altra mano però ti abbassi la classe di armatura eh devi decidere se vuoi essere più eh più ranged e che quando devo non lo so secondo me secondo me ti conviene lasciare proprio lo scudo però una scelta abbastanza personale però è proprio brutto devo trovare dei vestiti perchè perchè onestamente io ho dei vestiti però che vestiti c'hai? se sono carini perchè il barbaro che va a quel punto la lascio in mutande preferisco che stai in mutante ho trovato molto lì passo e così vedi tu questo no mannaggia come si fa la quadrata ma sono tutti da l'amerino no no vabbè la faccia in mutanda non dovete possono stare magari se sceme in mutande sì io sto senza armatura eh ti capisco eh che cazzo certo che è ancora carino così sulla sull'uco capilla quando ti ho messo delle vestiti guarda a vedere andiamo a vedere i vestiti ah ma poi poi ci sono delle collane eh vabbè vamo ma le collane sono senza potere queste collane c'è l'anello che ti sei messo come anche tu la collana mi sa che ce l'hai io ne dico mica eh questa ti fa fare quel famoso il lucidanzante che non hai mai usato anche perchè penso no allora mi hai detto che mi hai dato dei vestiti vediamo ah forse questa ah ma che ah ah già più carina eh ma il bagazzon dovrà s'andare eh vedete eh almeno non pare un altro cazzo eh lui non lo so si ah meglio che niente va bene torniamo dai non so crede che stai facendo qualche altra cosa comunque ricordiamoci che abbiamo anche le pergamene da poter lanciare un casino di pergamene forse ci dovremmo gestire meglio questi questi slot qua cioè qua pezzo di fuoco eh beh questo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ah poi andiamo dai se no perdiamo troppo di moccaggio abbiamo fatto dei più ottimi passaggi no no faccio no accetto noi non dobbiamo andare a dormire eh perché devi tornare da qua allora vediamo un po' che cosa possiamo fare allora noi dobbiamo decideremo di andare qua per fare la missione di questa eh andiamo a fare la missione di questi ah teniamo vicino facciamo uno step con la missione di questi ah e dove vado perché torno indietro ci usiamo qua è la missione di questa ah ok e dove abbiamo visto la ah quindi dobbiamo andare di qua vogliamo salire qua sopra giusto per ma secondo me non c'è bisogno dove eh io vediamo che c'è comunque qua tanto romano le ponte l'hanno fatta fuori no in realtà dovevamo andare proprio qua ma non vedi il ponte che avevano fatto cadere un altro no e quello salaggio dove sta il drago ma non dobbiamo andare qua domeni non dobbiamo andare a parlare con quelli la che sono gli amici di questa eh vabbè questa è una da scala qua si scende vieni eh hanno un mucco proprio trago ma perché non andiamo ma perché su due piedi di se dobbiamo parlare con loro dobbiamo parlare con loro aspetta c'è un po' l'ho 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 anche se io qua mi sembra di vedere non tanto si vieni da luce a cosa si vieni da luce a cosa si vieni da luce a cosa si ma no si ma no mi permette mi permette c'è qualcuno che continua ad avere successi di furtività ma io conosco solamente la mia lingua c'è difficile che la cosa però di del prezzo ma io sono Guarda se ci fai combattere contro un teatro Dio non la cosa ne fai Eh si Sei pronto a divertire? Ah no questa se ne va a quadrato Ci ha lasciato a cipia e ha ammazzato tutti questi c***o Mi torna Ah ci stanno attaccando Allora io faccio acchiappa proiettivi con lui Oh e quando me ne fai questa attacca? Ma perché quella sotto manichella Evidentemente qualcosa è andato storto Ma che buoni? Ma che vuoi? No ti voglio caricarti E mi fai andare anche a me No 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 non ne esiste Non esiste ricarico Ma come hai detto? Eh vabbè prima li abbuffiamo di ammazzato e poi li Grazie a te Ma capiamo quanti ne sono Ma sono poche loro Ci sarà lei Che è forte malamente E lui Che è quello che sta sparando Questo chi è? Sono tre loro Cinquantatré Eh è una lingua Allora facciamo farlo prima a chissà Vai usiamo tutto quello che abbiamo Tutto quello che abbiamo Allora guarda io la prima cosa che farei È una magia potente tipo Guarda qua guarda Le lame Però se la faccio Questo Questo morirà Però Eh sicuramente conviene che faccio Questa su di lui Vai faccio questa Poi posso fare Mi posso Quanto è vicino questo? Questo è vicino? Ma vicino a te che ci sta Vicino a Asuna Vicino a Asuna C'è arrivo fino a qua Sì vado a fare virtuosismo su di loro Vai ma fottura 40% Mancato alla grandissima Un altro nemico No no Un altro nemico Sei tu No no hai ragione Hai ragione Ma questo è tu Tu non mi hai fatto male Do entrare Ti ti hai fatto schiamare Ma tu a Rostai In effetti tu non ci sei proprio So qua Domingos Dove sei fuori Annalisa Ti posso dire una cosa Metti il tuo personaggio Sai quello personaggio Mano che difficoltà Ma tu non stai Non stai ancora Tu ti puoi muovere Non stai Tu puoi acciacchissi Ma se entri Se entri così Ti fai Ti fai sgamare Non farti vedere Vai dove non c'è il russo E fai un attacco a qualcuno Tipo a questo Fai un attacco a questo qua Ma che non attacca a fare Quello faccio vicino a quella vicina Che sta vicino a te Fallo l'attacco vicino a quello che sta vicino a me Basta che non entri nel russo No io non ho un attacco non mi muro E che fai un attacco magico da lontano E a noi si vorrei fare un attacco Un attacco magico che fa male E' uno a dieci A massimo Non lo porto a cifra Ma non c'è qualche magia più forte Vai Ma è un momento che puoi usare magia forte Tipo Ora è il momento di fare la lama Fai la lama Come si chiama Perché questa La paghi ma non Non la Come devo far capire Non Però come la faccio Se mi chiamano Non credo Non credo Non credo Se stai Mettila vicino a qualche nemico Vai Mettila vicino a uno che ha già Così lontano A questo Va Che sta succedendo Ok Eh vai Ora puoi fare Ti hanno sgamato Hai fatto la magia Però non è vero Non ti hanno sgamato Iniziativa della lama Ovviamente Vai Ora puoi fare Che puoi fare Fai una magia bella Importante Ma non dire Ma Quello ci arrivo senza che mi vede Ma chi Quello là Se vado qui Quello là Le vedi le lame che stanno là Tu puoi arrivare furtivo pure da questa qua Arriva agli vicini a sciamarrarlo Basta che non vai sul rosso Eh vai sul rosso Scusa È rosso qua Non vedi Là no però Là no però Arrivi fine là E l'attacca E lui Va Che magia Vuoi mandare mazzate Dai mazzate Fai qualche cosa di queste qua E lui Alfredo Vai divanti È esattelo Ma no no Davvero questa è un'azione La puoi fare L'azione la puoi fare Senta I non morti Ah scusa No Questo Gli posso fare questo Che cos'è Eh questo fa malissimo Fai questo Da secondo livello Ti bruciano le immagini Da secondo livello Però Vieni che stai facendo a me Vai 80% Con vantaggio Ok 28 Ora non ti muovere Ora ci penso io In realtà tu ti puoi ancora muovere No Ti ha fatto Ti ha fatto Sì Sei entrata sopra Ok E l'altro muovere Chi è l'altro Come no Sì Lei sta già nel cosa E come fai Se ci stai E meccaniche Dienti su sempre Cioè Non so come fare E perché io Perché io Perché stavi più lontana Ed eri di furtiva Velo Depple Poca e tor Poca e tor Poca e tor Hai capito? Però Però Quello da te la parte Una sola dopo Ehi tu Per vedere Facco parte Ma quanto c'è la questa davanti a me 12 12 Vai a lei No 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 Ma si è cominciano a mezzo No Non questo Non questo Non questo Non questo Ho detto Il vestito Adesso Adesso Vabbè Non mi mozzano a mezzo Mi posto qua Così poi se la prendete con me No No Bones Fai più niente Però Va bene così Va bene così Chiudo Chiudo Tocca a lei Mi ha fatto Mi ha fatto molto male Mi ha ucciso La morte si avvicina Mi ha letteralmente Abbuffato di mazzata Annalisa Dammi l'energia Perché questa Se arriva a voi Vi fa come il tonno Come il tonno Riomale Io non ti posso dare Questa non è quella Che fa l'energia Perché l'abbiamo lasciata Ah non è tonno tuo Vai No no Vabbè Vai un golo a cocco Uno E vado un golo a chesso Ma sta a 19 metri da questa Ma come ci vuoi andare Adesso a questa Ma lasciala No no Ma volevo tu Tu non riesci a fare niente Di Zeno Non riesci a fare niente Con un personaggio umano A quello Va attaccato con Con la roba a distanza L'hai capito no? No Non l'ho capito Eh Non lo so 12% Ma l'ho vista Ma vai 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 Ah Madonna Amici Comunque magari Ha carta degli occhi Vecco 3 Annalisa Ma tu sei un Sei un guerriero Che ti ha aspettato Comunque secondo me Se qualcuno Se ne va sopra Sopra la scala Se vuoi salire sulla scala Secondo me Male non fai Però non lei Perché in realtà Tu con la magia Dovevi salire là sopra Tumo dove stai? Stai là La vicina Vabbè Comunque Non vuoi fare altro Avvicinati Alla battaglia Con lei E berimbo Come off Che ha fatto Block Oh Fatto malissimo Però noi facciamo così Tuo turno Arma spirituale Sei l'arma spirituale Sei l'arma spirituale Ecco l'opportunità Mancato Pidocca a lui Che non si può spostare Come ti faccio Ti faccio Carguario A chi? Ah Eh ma il Barbaro No mi devi fare l'energia Noi se il Barbaro Deve chiamare amazzate Eh Io non so le Barbaro Sono io Eh tu In quanto paladì In quanto chierico Mi devi culare Sette Fammi roba di protezione Cioè Rendimi 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 una Eh Allora Lui comunque Si è fatto quasi la cartella Pure lui Però Non gli posso far dare Neanche una pozione Perché giustamente Ma che è? Lei che è stato Inversatore Chi? Chi è? Schermato Blocca persone Ok Si è potuto Ma ne posso bere Pure più di una No 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 perché Sembra un'azione Un'azione bonus Sai che mi sembra Quasi Non c'è più Ma pure prima Non c'era L'azione Perché avevo fatto Già la magia Fammi vedere Scusami È giusto Perché se no Vuol dire che dopo Posso anche No Era un'azione bonus Ok Usa simbolo Va bene Non ce l'ho più Mi sposto E ti prendi L'attacco di opportunità Ah ok Fermati Si si Fermi Così Usa la lama Tocca a me Si tocca a me Allora Io ora questa La devo solo Provare a buttare A terra Con tutto quello Che ho Allora Colpo frenetico Lo problema È che questa C'è ora Una classe armatura Sotto invece Mi fosse Attacco il ruolo Truento Vantaggio I tiri porchire Ma anche I nemici Attengono Preparare Che cosa fa Extra Con la tua Allora Io sicuramente Devo fare prima Questo Perché è un attacco Bonus Colpo frenetico Anche se Vabbè L'energia Quanta energia Ho? No Mi sa che mi devo dare Un po' di Mi devo dare Mi devo dare Un po' di energia Mi sa che devo usare Per forza Devo usare Per forza No Però se non la attacchiamo A questa Se non la attacchiamo Finisce proprio male Ma quest'altro Che cos'era? Ah no Termina io Non esiste proprio 50% Difesa alta Questa c'ha Cioè ogni volta Me lo dice Ottieni vantaggio Di ripercolpere Fino alla fine Del tuo turno Ma i nemici Ottengono vantaggio Di ripercolpere No Lo sai che non lo faccio Non lo faccio Perché questo dopo Già Già mi sta facendo Con... Eh lo so Stavo pensando Di fare Questa Lacerazione Vediamo 45% Eh ok Sanguinante Ma gli ho tolto Zero Gli ho tolto Proprio zero Finisce molto male Questa Mi sa che alla fine Dovremmo ricaricare Ci stanno per Per fare Come il tonno Congete vocazioni C'è fatto Il suo mestiere È questa Sì è questa Annalisa Però è chiatta Come un Pancato Cioè Sono troppo forte Cioè il livello di sfida È troppo alto Per noi questi qua Abbiamo Disimpegno L'azione di Semi Ti permette Di uscire Dalla portata Di miscia Di un nemico Senza subire Attacchi di opportunità Come vai Ci stai Dicendo Ti farei Disimpegna Ma io senti Io non gli faccio Questo Pure a lei Allora io faccio così Guarda Perché Oramai Lo posso fare? Che dice? Che ragione Non me lo fa fare? Perché Che è successo? Passa Ma io posso fare Un'altra cosa No Perché non posso fare? Ah perché ho finito Le magie Che bello Ti posso dare io Qualcosa a te Ma di che genere Ma di che genere Energia Analisa È l'unica cosa Che non E come te è nato L'energia Ho fatto La magia Quella Saggiungeremo L'inquadro 14 Ciao Ciao Anna lì Ho capito Mi puoi dare L'estrema Unione Come me la dà No la pozione Me la devi lanciare Credo Non si può lanciare Come? Ah non me la puoi lanciare Io ma già Non ne posso fare più Mi è rimasto Mi è rimasto Il coso di Eldridge Ma Mede Che cosa può fare? Beffa Grudelle Che fa? Insulta una creatura Per imporle svantaggio Al suo prossimo tiro Per colpire Ah ecco come si fa Così Asuma Eh ma manda Non è che me la dà Cioè mi dà proprio l'oggetto Cioè per mandare Per farmelo Sposta nella tua inventaria Separa l'oggetto Separa Non lo so Però separa Quanti ne vuoi Quanti ne vuoi Però Annali Secondo me Non è quello che Non è quello che stai cercando di fare Se la posso dare Wow diventa così grande È un mostro Ma io qui cosa tieni in faccia Una master a un occhio Ma non posso spostarla Questa cosa di pugnato Cioè una volta che l'ho messa Questa quasi per morire Ti faccio un altro scusola Non serve No Ti posso fare No Secondo me si fa una d'arma Una cucchia a mano d'arma Ma chi è Ma chi è Ma chi è Che sta soffrendo così Senti io posso solo fare Un eldriciola Questa che cos'è Che significa La personalizzazione Ah Oh Interdizione alle lame Diventa resistente ai danni Condutenti per farlo E taglietti Ma a chi la posso fare Solo a me Solo a me Ah no no Posso farlo a lei Ma anche se oramai Lei è morta Cioè Asuna è morta Ma come ti Perché non abbiamo Come ti posso dare la pozione Domenico Annalise non me la puoi dare la pozione Me la potevi dare con Lanciando Ma se non puoi lanciare Non puoi Non puoi Ma sei sicuro? Sì Annalise Però tu puoi lanciare Perché non puoi lanciare? È un'azione È una Non è un'azione bonus Lanciare Aspetta ma io Quasi quasi uso Una pergamena Vediamo se Troviamo una pergamena Roba forte Che posso fare Eeeh Dorevo fare qualcosa Ma come faccio? Annalia La situazione Pergamena di tocco gelido Un da De 8-18 metri È poco Ci vorrebbe una pergamena Di qualcosa di proprio Forte 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 Scuro visione Pergamena di vita falsata Pergamena di vita falsata Ottieni 7 punti feriti Tempo in alto Mani brucianti 5 punti feriti Ah ma gli faccio questo Pure a lui Io gli faccio Mani brucianti No io mi tengo Almeno tu Ma io mi tengo Il coso per tu Dalla willa Dalla willa Eeeh Un'azione extra Prova a lanciare Mani brucianti Ti Ti passo Ti passo a te Questo Vai Io vedo se posso fare Io l'aiuto a lei No mi dice Non posso No cosa fa Perché E' un'azione normale Come un'azione normale Siamo fottuti Vabbè Io faccio Però io stavo facendo Interdizione alle lauree Scusami Ma che sta facendo Questo Io ci avevo Boh Non lo so Vabbè Termino Posso solo provare Ancora a colpire A questa Non ho molta Prendermi Una pozione Una pozione Mannaccia A proposito Stato sbagliato Mannaccia Stato sbagliato Ho premuto Ma che cazzo Siamo morti Dai Dove sta Dai Carichiamo Allora lì Siamo morti Aspetta Dove è andata Allora 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 Stai chi Lei Dove è andata È da qualcuno Non lo so Non c'è più Domenico È morta Che è successo Allora Ma che è morto Come fa ad essere morto E vedi Dove sta là Là sopra Sopra Alla Allo schermo Eh La sto cercando Aspetta Scomparsa Scomparsa E' vero Scomparsa Boh Non lo so Scomparsa Io ti posso Ti posso dare Fare la magia La magia Vabbè Io penso che siamo morti Perché Non riusciremo a fare niente Stanno Stanno Due di loro Forse ci dovevamo Concentrare Su quegli altri Scusate Ma perché fai sempre questa qua E non fai che ne so Quell'altra abilità Vabbè fai quello che Non le leggi Nelmina l'abilità Vabbè Si è Tocca a lui Eh Dammi mani brucianti Va Ridammi mani brucianti Faccio male Io devo Varire a te Che è bella Non riesci nemmeno a te È riuscito a fare qualcosa Quattro 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 E non sta male brucianti Tra l'altro Non tenivo Già una Mane bruciante Era lì Ma però Io ho perso un attacco Perché ho sbagliato Il pulsato Ma si può fare Vediamo se almeno Questa Ma 10 Cioè potevo fare Un punteggio altissimo Ho fatto 10 Che bello Eh Eh boh Io a quella non la vedo più Quindi mi ho vado su questo No Ti ho dato l'energia Domenico Mi do 3 Ma questa è Eh L'azione è bonus Come cosa si pede Che non ho un'azione Quindi l'azione è stata Che bello Non posso fare niente Eh Posso andare a questo No Termine Cioè era nascosta Nel Davanti a me Ha colpito la spada E che stiamo facendo Ma c'hai zamm E c'hai la madre Ma buona lì Ma vogliamo L'ultima magia Eh Analia Carichiamo Dall'ultimo salvaggia Perché è andata malissimo Dove sta? Stato 6 Quello 16 Se lo prendo anche così Vanno se tu parli C'è Vediamo che Che è andata male Io poi volevo dire Se io facevo Il look E gli avevo buono Il look Che succedeva? Che ti mangiava direttamente O drago Secondo me Ma stasera Pizza Vuoi fare la pizza? Cristina Ma da lì dove sta? A casa A Napoli No Non è qui da Napoli È una cosa Di casa a Mattina Fino alle 2 o 3 Perché no Poi a un certo punto Ci vedeva lui Lo so Perché non hanno lavorato La stessa è andata male Però dovevano fare le spedizioni No Da poi Io grazie Ma ora Voi proprio dire Qua c'è un giorno Che stessi Dove 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 Ivan 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 Considera Ivan Considera che Lui chiede Continuamente Ma Quando andiamo Da Ivan Qualunque cosa Succede Pure sulla Switch Dice Ma chiedilo a Ivan Mi sicuramente lo sa Quindi Se c'è qualcuno Che si sente Trattito Dal sangue Del suo sangue Solo io La chiamato Calvo Niente I I Aspetta Vi vedete Dove Sono arrivati No Cominciando Andrete C'è Amore Vai La camola Andiamo La camola C'è La Troppo Che Le Clyde C'è Che 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 Allora Quindi Avete Dato Allora Io parlo A lei Perché Te la devi Riprendere Tu Ah Ma tu Non fai Zumba Zumba Con questo Ma ci Faccio Mi fa Diretata Questi Che Non Ma Le Cosa Io Ho Fatto Zuccare Zuccare Le Pure Le E Poi L'ho Scaricata Perché Volevo Stare Con Ghe E Infatti Poi Ce L'ho Fata Ghe Non Non Ce L'hai Tu Non Ce Abbiamo No Ce L'ho Nell'altra Campania Il Mago Noi Abbiamo Reclutato Tutti Quelli Che Chiamano Mazzate Lo Diciamo In Ingandatori Pochi Ah Io Mi dovevo Però Fare Tutta La Situazione Armatura Non Era Trocata Un Tornata Un Tornata 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 C'è una bottiglia di Alfredo? Paffa S'ha L'abbiamo Tornata C'è Stai L'abbiamo Tornata quando facciamo tutti questi fatti ricordiamoci di salvare perché se non può succedere qualcosa di drammatico e il mio corpo è stile, sono quello che devo essere, diciamo quello che devo essere per salvare ogni fattura che facevo e ogni malattia che faccio ma poi se già le hai sentite le cose Femix ah hai cambiato ah oh oh Perchè va l'avato? ah perché se metto il vestito non posso tenere il cappello vabbè va bene allora mettiamo a lui questo facciamo i proietti sono queste eh quello delle cariche è di francesco eh certo io lo compravo vabbè io sono pronto ma questa non vuole un altro arco che significa un altro arco che fai due archi no che significa un altro arco uno strumento deve avere una più buona devi vedere quello che ci sta che ne so questo video io voglio che cosa devo fare poche dongs vai a vedere il video che mi ne rogo vuoi vedere pokemon è che vuoi vedere veloce 33 secondi poi metto il primo video e non ti vedi quello la balestra leggera guarda i danni che fa uno fa trovato con lei esploriamo meno che vu è un dato da 8 balestra leggera arco corto fa cose diverse uno fa il tiro gabbizzante l'altro non voglio andare avanti da solo non voglio andare avanti da solo schermato ora siamo qua la prima cosa ci sembra partito ok ma hai fatto nulla tutta la conversazione con lei niente zumba zumba no vado dritta così vai 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 no vado dritta me diga pesa me lo do no vado dritta no vado dritta no vado dritta no vado dritta SILVA, SILVA, SILVA. non vuole capire non vuole capire non vuole capire prendere la tua croce vuoi seguire la tua scuola parlare affermi la tua mandata non vuole capire prima con la bocca però vedi per sua sua se fai questa secondo me però vedi tu come vuoi fare eh non lo so eh dobbiamo rischiarci eh fa fin da di me si secondo me si non direi che si almeno ce la giochiamo con un di 20 magari ci va bene prova di carattere puoi fare sempre raggiungi bonus va oh giù vai vai uno ma perché non te l'avevo detto ero sicuro che andava male ero sicuro andate sempre male si no Annalise secondo me amma sa gli ciò la mette in alto è una cosa è una cosa è una cosa che è una cosa è una cosa è una cosa avvenenato avvenenato da parte è inutile qualunque approccio facciamo ma tu puoi stare al passo montano cioè volete andare al lato 2 al passo montano sei al lato 2 no lo sappiamo noi non facciamo questo metagaming del passo montano noi siamo andati volevamo andare a fare sono troppo forti sono troppo forti vuoi ma il treno precedente eh si andiamo dall'altro o lì saltiamo a più pari andiamo 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 là no ma fino adesso stai solo tu ieri? no ho detto vieni tu e altro io voglio andare guarda chi va là? senti facciamo le cose come le stavamo facendo guarda giù giù guarda giù guarda giù guarda giù guarda giù che succede? ma che video lo state voi? 3 ok io lo faccio senti proviamo ad andare a tagliare di qua vediamo se c'è una strada che ci può portare saliamo qua sopra e poi andiamo a sinistra fermati il tuo personaggio è diventato morente no no è del è di prima ping è di prima ping che è ping? che stai dicendo? ma che ne sarci? ma tu parli una lingua che non c'è al libro che si dici parole senza sempre tu perché non le lo vedi vedi pure a te io vedo a te e a me mi diceva scritto ping sopra il mio che doveva diceva ping dove sta? te ne va fai sempre questo seguimi seguimi non so dove sta se devi fermare non so dove sta io c'è di dietro sto vicino a te guarda la mappa guarda dove sta Domenico? ma com'è? la mappa la mappa la vedi in alto a destra la mappa dici che guardi a me a te la mappa devi andare dritto sei a tre passi da me giri a sinistra ti ho detto e ti vedi vediamo se riusciamo a passare di qua è un po' al limite vediamo tu riesci vedi se ci arrivi tu un barrile mi ce fa ho una sensazione di no eh solo io ce la posso fare fammi vedere si perchè sennò me seguiva già ehm spazio non sufficiente no non ce la può fare c'è un salto meno meno importante va bene come non dico allora saliamo sopra dai ancora ti puoi andare di qua Domenico? sali sopra qua stavamo a sentire ma non dovete andare prima dai copri e noi la volevamo andare dai copri non avevo fatti i copri ma guarda no questi sono i copri ehm ma tu ci hai andato ai copri ehm noi siamo arrivati fino a qua però era era una troppo volevamo vedere se potevamo fare la stilt girando intorno e io da la ho fatto stilt ecco come fai e quando lo ritrovi all'inizio fatto finta di essere amica posso parlare col capo vostro ma è entrata dentro al capo vostro e lo giusto di nascondere no no io sto un po' quello che ti riconoscono come che ti riconoscono come freccia del tono davanti freccia del fulmine allora vediamo se riusciamo ad aggirare io ho la sensazione che no non stiamo salendo di qua l'unica strada qua però non ci dovrebbe essere una strada no no è tagliata è quella distrutta che abbiamo visto qua sì ma tanto quella voleva essere portata da quello voleva aiuto da quelli la della ragazza sua che poi non le ha aiutate sì ma io sto pensando a fare quest'altra missione qua però vedi siccome qua c'è l'accampamento goblin io avrei voluto fare questa strada qua però se non possiamo fare questa strada qua fammi vedere che potremmo fare perchè qua è proprio e se no dovremmo tornare di qua dovremmo diventare proprio qua io ci sono andata solo da giù da là in giù in là andiamo qua andiamo qua andiamo a risolvere prima questa cosa qua visto che no Domenico quale risolvere? cosa vuoi risolvere? vieni vieni con me tre mostri giganti andiamo nascendo tre mostri tu c'è un coso là? eh questo è per il viaggio veloce così possiamo tornare subito qua però visto che ci troviamo qua c'era quel tizio ah qua l'avete salvato? non l'abbiamo salvato nessuno no eh sì eh sì mi sembra molto indelicato cosa diamone successo qui ah? ma chi è cadavere qua? però questo è un dro oh oh bella questa armatura amare come mi sa ah no non era un vestito è proprio un'armatura oh questo è buono eh? 12 oh bella oh bella oh bella quindi l'oro del goblin fungo un gatto rossa oh bella forse lì c'erano e ci stanno usacchi tu stai facendo sempre l'indelicato giusto? eh allora io se ho capito ben credo che non posso razziare no posso razziare posso razziare posso razziare chi cazzo ne va? orso di pezzo orso di pezzo barriere di vino eh? ok già abbiamo preso oh no ero due poi ah c'è il salato in che però non è no ma non viene visto di salvare nessuno? si nemmeno di no non so se lui si era arrivato troppo tardi si ma perché forse se anche potevamo venire poi non abbiamo e facciamo fare perché qua si è studiato il fuoco quando sono arrivata io c'era il fuoco a gogura lettera eh idiota hai lasciato un fazzoletto sporco sul tavolo della cucina ancora non lo butto deve certe volte deve buttarti una cosa che viene seppone fa attenzione alla fuori no mi è andata proprio male oh tu stai con tu stai con Will si dove hai la sua con Will si? ah no ok ok no perché mi sembra come ci si sente no 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 che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? si te ne hai guadagnato sicuramente è molto legale e buono ma lui da qua la scala vedendo chi se prende quasi cambia di no non sto dicendo pokemon sto dicendo poche tonks che sarebbe il problema è che ha tolto youtube io non so come no ma mamma di vede tu non so come si mette su telefono chi l'ho fatto strano ma tu quindi si possa fare qualcuno andai se noi ci siamo passati davanti sembrano i rumori e tu hai taita me google e cinamo ha freddo di mangiato di cosa non tirare troppo forte cosa dobbiamo fare eeeh sennò lo so vogliamo e se trovi youtube ok qua e giù e a te 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 mi raccomando eh non so che già è nooo io sono solo andato no qua quella là che stava pregando c'è tutta niente no? che te lascio un problema no? e è beh che vieni 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 sed una chiave dell'appartamento lo trovo all'appartamento che cosa percezione risolviamo subito aspetta no no sì sì percezione fallida da me scusami dentro al paiaio c'era un tesoro anello della dote che cosa fa niente 112 oro ci piace va bene io c'ho una chiave di un appartamento c'è qualcuno che si muove là dentro dov'è? qua portano a mezza forse è questa vediamo se fanno mettere l'arma sta qualcuno là uno c'è proprio qualcosa che non tutti sballati morti tutti solo will si è salvato perché aspetta aspetta ma vi posso aiutare a tutti no siamo solo morti stecchiti grazie ora carica sembra un messo a fare basta basta non andiamo 3 van di fila andate male ci riproviamo sono andate male tutto ogni tiro di dato è sballato che si voglio togliere e mi sto scocciando andiamo qua ragazzi che troveremo ancora una cosa che andate lì dobbiamo rifare indietro un'altra volta tutto ma non mi hanno preso no ma non mi hanno preso niente non mi hanno preso niente a rossevo cosa lo viaggio veloce sarà di qua no sarà di qua non mi ricordo sarà dove sarà non mi ricordo sarà dove sarà non mi ricordo E vai, ho solo tu qua. Parloci tu, va. E vai, ho solo tu, va. I'm the one that talked him into joining the fist. A massacre. Drow and Goblin slaughtered the lot. Please just leave me be. The tracks converge here. Two, maybe three drove. At least one of ours. From here they went down. I got so confused. What does it look like? I'm trying to sort out what happened here. But I can't piece together much thanks to the fire. Nothing I didn't already know. Drow and Goblins raided the inner bird to the ground. I'm trying to find out where they took the... What they came from. Tu stai parlando con Dreni? Guardo Dharma? Sì. Sì. Mamma mia! E' evidente che la situazione è complicata, voglio solo aiutare. Eh no, no, sono alleati con i compiti, no, loro non si trattano, ti riuscissi di tosse. Mi metti più adesso. Che faccio? E' un momento, no, per i tiri. Sopra. Aspetta, qua c'è una chiave dell'appartamento che non era quella. Sì, scusami, qua la... Eh, si è fallutissima. No, non c'è. C'è rimasto bloccato. Eh, no, no, come vogliamo fare? No, come è? No, no. Aspetta, aspetta. Però io c'ho a destra gli animali. Sì. Vediamo se uno qualsiasi, un dino qualsiasi, va bene. Se è successo, è riuscito a te. Aspetta. Eh... Questo asero. C'è l'intimidità forse... C'è più o più... Sentimi di... No, non mi sembra proprio una mossa intelligente, però... Certo. È vero, si è fatto in dibattito, guarda che andava... Beh, comunque potevamo... Sai che facciamo adesso? Guarda che facciamo. Andiamo a lui... E facciamo un bel parla con gli animali. E poi parla con gli animali, mi sembra stato ricevuto qualcosa. E' giusto. No, è stata una conversazione molto interessante. Allora, ora... Ora, il problema è sempre che si cadenta. Che vogliamo fare? Percezione fallimento. Eh, lì, l'ho detto tu. Allora, dicevamo... Salvo, dovevamo salvare. Non ci sanno dover fare... Non ci sanno dover fare il salvataggio rapido. No. A meno che poi, io non lo so, ci siamo scelti, mi sono voluti fare scatto. No, no, lui, perché salvare? Perché ti hai detto un'altra volta? È così? No, non lo so, vedrai, perché si fa l'unico su lei scadini. Ma magari c'è qualcosa. Ma non lo so, ma la strada puoi andare... Andai lì, ma tu c'hai brutto cazzo. Tu è cosa che puoi fare? No. Ci stanno... Allora, il gioco lo devi vivere come una partita di D&D. Non devi scassare il cazzo di questa maniera, perché se no mi passa la voglia di giocare a me. A human man awaits you, a spell crackling at his fingertips. He flees us, waiting for your next word. A me passa il cazzo di questa maniera, perché nei while sempre hai cercato un consiglio di giocare a fare gl Darling ko Ma scusami, ma i pugni fiammeggiati non erano quelli che stavano là? Mamma mia! Aspetta un attimo, un sacco di aiuto. Un sacco di aiuta. Facciamo gli sbarazzini. Allora, chi c'ha aperto? Ah, qua. Ma che posto è questo? Ma che posto è qui? Ma che posto è qui. Questa è un sacco. 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 Questa è un sacco di breve, dove sei? Aspetta… Vedo… l'armadio questo armadio andiamo vediamo che succede a un trasporto ottimo c'è qualcuno qua però solo e che facciamo ci facciamo vedere o questi sono nemici però noi siamo qua facciamo finta di essere uno di loro ecco qua si è attivata la rugisci ha sempre funzionato bene no dove vengo per favore vabbè sono abbassate dei genetane ma anche portava buone cose per il mio avviso inizio 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 quindi inizio ogni tanto mi trovo un bocchetto in bocco per l'altra cosa a un'azione a un po' di posto un po' di riscatto se vuoi fare inutile come hai detto furtività non vado bene barbara fare questo intimidire con competenza vediamo un po diventi più due più e perché è perché devi mettere io qui qui alexa accendi luce i soggiori che si vuole bene ma perché quando vuoi provo a fare questo intimidire e non porlo la carne vorrei però se non vuole far mangiarlo il pollo prende prendi quello che vuoi se tu mi dici il pollo io ti dico la carne vorrei evitare e tu mi dici prendere il ma perché sembra che ti stanno squartando tutto il sito amare tutti quanti di regioni tutti quanti nel a luca va dice stavendo Non ti preoccupare. Se si blocca papà viene e lo sblocca. Scusate. 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 Vorrei evitare la carne. Primo pollo. La cotoletta di vegana. Quella vegana. Va benissimo allora. No va bene. Sei vegana. Sì. E tu dice la cotoletta. Non lì. Guarda ti faccio vedere un'altra volta. Guida se ne può fare uno solo. O questo o quello. 8. Ah. Ci hai fatto. Non avrei mai detto. Non avrei mai detto. Come ci basta. Eh. Dessa. Forse di qua. Eh. Ha detto. Abbiamo disattato. Le trappe. Estate. Dov'è? Riomann. Dov'è pa' raga. Forse di qua? sulle la cessione fallimento ma tanto formato dubbietro mi piacerebbe scelto non è bene, dai che cosa? non è bene, dai che cosa? la salata c'è l'angolo adesso cercando di capire che la dico che ci parlavano a cappio perché noi stiamo alla a star la sagina a un brocci c'è un po' la sagina eccello dipende da che si tratta non mi sembrava, non mi sembrava non mi sembrava, non mi sembrava in realtà noi lo teniamo già quella in sola non si è potuto, non si è potuto trovare chi ha fatto questo e ricordare di che ce l'abbiamo fatta io se ci parlo, quello c'è là no, allora non è quello comunque vediamo se si esce da qua soprattutto dove si esce soprattutto dove si esce oh, no no ma non c'è nessuno ma non c'è nessuno non c'è nessuno c'è gente, c'è miliardi di gente se quello la vedi ad esempio ci sono cani, i lupi guarda che cazzo sopra si esce da là, dove si esce allora se andiamo di qua dove stai? ciao ciao devo sapere oh 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 che cazzo è qua che cazzo è qua cosa hai fatto? oh, cercate di aprire il cancello scusami ma come si esce da qua? pure là non si può andare giù 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 ah no no, di qua guardalo guardalo ah bravo argano della scienza guarda questa è la rascina serratura è chiusa let's see non funziona non funziona non funziona scusami ma se la ah ah scusa se facciamo ma qua non sa che si scende perché si sale ah se dove sta quest'altro qua eh ho provato scusa scusa proviamo a scassinarla allora non lo so 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 no ma secondo me se non sblocchi questo ah spero vediamo se qualcuno ci da che ora è bene scassina ma perché ayana ma perché ma perché 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 che bisogna fare successo si dice io sono un orco molto pratico non lo so a me si da scassa mai usiamo che hai fatto? l'ho usato e se non ci sa tutto devi fare usa ma su questo o su quello? non lo so eh ma non lo so non lo so non lo so aspetta anche se qua c'è una missione da qua qua c'è l'uscita vai vai che c'è una riuscita nel momento boom my spot e alivamici all'occhio ma ci provo io togli troppo tardi e mammo di marabialmente no in livello del duoshock toccalo col cavo poi non so se il mio il tuo affitto ma stai giocando guarda teoricamente la dovresti scassinare comunque tu domenico ma dagli una sciata sopra e se si rompe ti esce lo stesso il cazzo l'attacco però non mi sembra la soluzione ma comunque lo vedi anche da qua e la robustezza vai a valista tieni premuto quadrato scassino vai tu c'hai più due a questa prova è la sola disse il dato del giro 7 le saluto fatto 7 3 10 per forza ma che è amore ma io non ci posso fare ma che c'è parlando dei morti vita passata come è che sono venuto di essere giocato andiamo allora alla fine qua ci sta giochiamo ce la vediamo che succede questa carenna tutta ma io direi che il caso di spiegarci ma non si possono rompere questi questi natura fallimento sono casse bloccate quindi mi sta dicendo che se io lascio fondo questo è capace che si apre ma io penso che ti puoi fare la cartellaria da solo tanto hai iniziato a parlare tu quindi è inutile ma che è ma quando mi hai iniziato chi quando mi hai iniziato no ma vedi che l'ha contatto da lui eh non ha contattato lei nella mente gli sto parlando ma chi è iniziato a contatto da lui e poi puoi lavorare con la storia quando mi hai iniziato a contatto da lui quando mi hai iniziato quando mi hai iniziato no che hai detto la voce terminata la conversazione analisi però risponde la voce marco ha detto state venendo stanno vedendo io ho detto io ho detto io ho detto non ho risposto io non potevo parlare ho detto abituati alla voce ma te l'hai andata un'altra volta avanti ma perchè vai sempre con chi ma te la faccio no come shhh che ti saltava analisi ah non andai stai facendo il tuo gusto non è normale non è normale ma io mi sono scorciata io mi sono scorciata io mi sono scorciata scusami mi stai giocando cioè è normale che giochi in questo modo se ne vai avanti analisi tu tu sei andata da quella direzione no Domenico tu te ne sei andato sei scesa e te l'hai fatto attivare la tappa e io ora non posso neanche più scendere tu puoi fare quello che vuoi no posso perché tu puoi fare assolutamente quello che vuoi come accendo Domenico tu sei perché tu veramente tu non hai mai imparato a giocare neanche a D&D normale quello è il tuo problema salto e lucido se salto non c'è la scala non c'è la scala no sei bruciata perché tu l'hai fatta bruciare la fungo a fianco no aspetta ma vedo se a quello da questo da sul fungo un attimo che si voglio vedere se da questo da questo da qua lo posso colpire si ma qua sarò due minotauri non sai tu che devi non sai tu che devi scendere sono io che devo salire sono due minotauri come li facciamo a due minotauri 84 punti finito voglio ma questa fin dall'alberga e dopo dovete fare prima quello che vi ricordavano sì sì ma perché con analisa si va non cazzo ma cioè ma siamo andati qua giù ma che vogliamo fare possiamo solo ricaricare puoi fare finca non puoi fare fuga sei troppo vicino ma pure le faccio fuga dove va andate all'accampamento quando fai fuga e suona l'accampamento poi decide di sponare in un posto dove stavano quelli mappa no no fuga dal combattimento ah ma lo devo fare tra le sue opzioni tra le tue opzioni aiuto disimpegno forse disimpegno no scatto non c'è fuga devi trovarlo non c'è fuga io le cose che posso fare c'è da qua è un fuocarello russo vicino ai personaggi in basso a me mi esce in genere eh no non trovo niente del genere quindi al massimo può stare qua aspetta non ammazzare aspetta un attimo eh vedi quando fai sul fuocarello ma vai forse fai sulla mappa sulla mappa? no ma non mi fa andare sulla mappa scusa se fai azioni azione questa azione posso personalizzare la dialogo scatto disimpegno aiuto scatto disimpegno aiuto ma però stai fermo amore non ti muovi sennò eh no non faccio niente sto cercando di capire io sto a stu fuga viaggiare fai x il triangolo i membri del gruppo in pericolo non possono viaggiare rapidamente eh no però c'è a noi spiavami di un attimo registro di combattimento ma mi sembra stare che puoi scappare da un combattimento così se non stai molto vicino ai miei cosi ti fa scappare oppure su forse fa scappare non noi perchè però faccio modalità esploratore ah questo deve essere modalità esploratore io eh no allora sarà quello che si vabbè comunque tu puoi saltare puoi salire sopra puoi salta su questo ma no non ce la posso mai fare su fungo su fungo vai è lui è lui che fa lo lasciamo qua prima il fungo basso si ma lui non ce la fa saltare neanche sul fungo basso io ce la faccio i lo devi muovere prima spostare no il salvo mi facciamo conto che lo metto qua poi faccio fare il salto che non lo può fare più ragazzi però dai non ci possiamo fare se mi piace e la comuniera non ha chiamato ma sono a azzeccato i propri? si sono a azzeccato infatti io credevo che fossero tipo lo Sheridan cioè limoncello e crema di limoncello che magari si versavano insieme però ha detto no, sono semplicemente separate ma noi caro se io mi ricordo abbiamo messo abbiamo messo il sigillo perché se c'è più la vita sopra tanto ce ne dobbiamo andare eh vi è giusto il sigillo è il posto più vicino dove vuole andare senti volevamo fare quella missione andiamo a fare quella missione solo che non hai capito perché il camo sollevano è il più vicino al villaggio in rovina è il villaggio in rovina ma io ce l'avevo proprio là che devo fare lo taglio pochino vai no ma c'è il posto più vicino se non mi sbaglio è il posto più vicino andiamo un'altra volta fino alla io poi seguo te no infatti non non so mai cosa chiede no lo sanno va parata a parte no no ci stanno tre tre trollo grossi perché non ce la fate no sono cinquanta e rotti di me no ma non è che sono tre ma forse si può anche parlare solo che non è la non è cioè sto facendo un tipo di gioco con di giocata con io sto facendo un altro tipo di gioco da solo e che con lei non si riesce a fare quel tipo di gioco così quindi lascio decidere lei e la sua esperienza di gioco che è così quindi la lascio fare così non credo che se giochi da solo io gioco in un'altra maniera io gioco in un'altra maniera allora se tu sei non guarda con l'altro guarda tu ma vedi questo è un altro punto di speranza vedi quello è ah è un volo volo ma che si può che fa? che un barbacolo ma ora lo vediamo no III io ero io ero è adesso io ero ganze l'accampamento dei Luigi, che stava già là, forse non sapete quanto cazzo, ma se non si diceva lui che voleva fare tutto il gratasso, che voleva andare dai Goblin per raccogliere Sì, come bella? Ah, Neu! Oh, you? Never? Come, let's continue our paladino. Draw Waxlin, draw Waxlin, draw Waxlin, um, um, come choose, draw Waxlin, um, come choose, draw Waxlin, draw Waxlin, we play we're, come on Pidgey, back to you Kai, you don't want to move this, you can do it. Of course, man, an ice gripper, idiot. Dai, ma poi ci parlo io qui, dai. E caggiava la giustizia sull'enda, qui? No, ma ora sta accompagnando il cello, capito? Ah. No, non c'è un po' solo? Non c'è un po' solo. Non c'è un po' solo? Non c'è un po' altro? No, 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 no No, no, no ma farei comunque questo io ti dici inganno no io sono un vantaggio no ma bisogna comunque sono vantaggio non lo faccio più ascoltare così non sai niente no vabbè vabbè sa che fare allora normalmente sticci in foreign types in the spider pit but the absolute says we're all making nice now so in you go I suppose well now gonna have to be more specific than that we're drowning in true souls here we are you here to see priestess gut boss ragsnick allora sono tre di loro ma io voglio vedere quello che comanda il capo caporazzo io voglio vedere io voglio vedere il capo razzling si penso che il capo il capo razzling è quello che devo spaccare la faccia tu di credi devi spaccare la faccia io voglio spaccare la noccia a lui si si gli vado a spaccare la faccia mentre dove ha detto dritto davanti a noi vabbè vabbè a voi che ti riporta sulla mappa i cosi quadrati di quello che ti riporta già un capo chi ci sa capo razzle è la prima quella che io ho convinto proprio la missione 3 ucciti di tre cavi vabbè ma noi infatti che significa che con la faccia e ha detto posso parlare con tempi valga lei ha detto di sì ma guarda anima pura tutto ah perciò anima pura ci parla purtroppo è interessante allora secondo me lei è la sacerdotessa sarebbe più logico ci parlassi tu ho visto che tu ce la vuoi come mentira ma anche no guarda la dovete ascoltare così ti parla ho detto i scopriano al cliente è finito ecco a sides ecco 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 ecc ecco 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 meno. però non fai nessuno che s città. perciò sono tre i tabli. Gli altri si hanno sola in marchio, però allora sono due prete. è un po' di più è un po' di più è un po' di più è buono non è molto da dire però gestiscila come vuoi è meglio così analisa ha rimanato tutto quanto e tutto quanto i problemi tutti te attaccheranno dopo comunque anche se la missione dici di uccidere è detto che la di uccidere no no ma te lo dico solo perché c'è questo gioco ti dà la libertà che dovesse avere giocato dnd cioè tu sei capace di intrappolarti nei meccanismi si si del gioco oi c'è un'acqua calda oi c'è un'acqua calda oi c'è un'acqua calda tu sei sempre il solito tu e non comunque si è sempre il solito tu e non comunque si è sempre il solito ciao ce li abbiamo tutti addosso perché che l'ha chiamato per chiamato ma lei ha chiamato come l'info come la volete uccidere a questo e tu come la volete uccidere anche se tu con un colpo uccidi e tu invece con un colpo uccidi ci volevo parlare prima fammi pensare che possiamo fare di bello non calzare mastodontico però si consuma sì abbiamo dobbiamo ucciderli tutti quindi sicuramente mira ma di frenesia e poi probabilmente per ucciderla silenziosamente dovevamo dovevamo metterci silenziosi non lo so c'è nel momento che hai fatto altrimenti che arrivano prima che stanno arrivando io faccio davanti alla porta la magia del ah ma ci vedono ma bellissimo si sono messi molto bene no contro chi è se faccio questa però no non vedo allora ora per fare pure tutti questi qua io faccio una bellissima questa qua delle lame ma proprio qua in modo che in modo che ma mi bacca attacco di opportunità no non sto attaccando lui devo chiudere la porta devo chiudere la porta non la posso chiudere vabbè ho fatto la magia e niente non posso fare niente eh va bene allora io posso fare che è successo che hai fatto a ok ma mettila però là vicino perché l'hai messa vicino a noi che questa è morta eh non la potevo mettere giù là non la potevo mettere questo è un vittimo eh questo è un vittimo posso usarla per lanciarla verso qualcuno ma davanti può uscire c'è una porta però comunque non credo che ci non ci inseguano no io vorrei prendere il cadavere di questo e lanciargliolo addosso però non si può fare non c'è niente di incendiare fuori incendiare no ma stanno in mese i cortili comunque basta già pure solo che metti un impedimento se c'è qualcosa per bloccarli alla porta così rimangono in mezzo alle lame e si fanno male forse se riusciamo chi tocca ma ti posso chiedere perché a quello che a quello con più energie non a quello con meno la regia grazie stavo facendo quello comunque non è mezzo si fanno male se riuscissimo a chiudere la porta questo è morto questo è morto ma dei nostri si sei tu non so come sia possibile che tu stai a terra questo c'è a 13 ma comunque per uscire si deve fare e questo c'è a 7 potrebbe morire alcuno si morto e va bene così ora io la cosa migliore che posso fare è purtroppo sta vicino muro no sta di qua non lo puoi mai prendere non lo puoi mai colpire sta la guarda però posso aiutare a me no ma infatti è inutile che ma che cazzo ma che cavolo che è successo guarda non si è mossa sta stronza e dove è andata a finire qua ma eh beh pacienza vabbè ti aiuto io dai e poi che posso fare più posso usare un'arma improvvisata che posso fare che cos'è lancio il racconto e ma cosa lancio ok come funziona sto lancio il racconto ah ok ah ok eh chiudi la porta eh chiudi la porta se ci arrivi si no così lui deve andare per fuoco eh purtroppo neanche a me chiudi movimento non sufficiente vabbè dai io passo toccherà a lui si dovrà per colpirci o noi si deve spostare tranne ovviamente per colpire a te è morto perchè è andato sulle là alla domanda no potremmo chiudere la porta ci vuole eh chiudi se chiudiamo la porta sicuramente è una buona idea perchè ci disponiamo in modo da oh ma non ci possiamo ancora muovere chiudi eh vai io mi metto davanti alla porta in modo che se proprio devono cercare qua tu ti dovresti dare un poco di energia aspetta io moso la spada che devo fare? eh mettete all'altra allora di qua non possono venire da nessun'altra parte da qua la mia porta credo eh spero che non ci siano altre porte in realtà qua ci sa qualcosa qua che eh fammi vedere interrombo termine al tumore di questo ma scusami ma se adesso ok nel frattempo cosa stanno muovendo comunque no nessuno ci può nessuno ci può a parte questa c'è una porta qua allora ma dattine energete intanto nel frattempo quando tu è l'atello non merita va che c'è che lo sa l'atello dove sta male allora io vado a essere la porta quando vado a essere la porta quando vado a essere la porta quando vado a essere la porta se devi stare dal lato della porta vicino alla porta devi stare dal lato dove sto io no dico qua da questa volta di qua ma mettiti una porta di là sicurezza no no stanno continuando a venire allora io mi metto qua giusto per essere in linea per lanciare le magie si abbrano si abbrano una volta nel frattempo mi faccio un'interdizione alle lame tanto non è una magia quanto dura interdizione alle lame chi tocca io ho finito analisa però io ho la sensazione è inutile che metto due all'orallo però no vabbè facciamo così che è la lama che faccio con questa lama? Nemo non possiamo uscire ma tu non puoi fare il movimento più lungo con la lama? no sicuro? volare che cos'è? vabbè e dove sei andata? ti puoi muovere liberamente? si e prenditi tutto quello che ti puoi prendere qua mentre andando noi cerchiamo di capire che fare è è però possiamo al turno di di la sella aspetta no no è il turno mio turno mio aspetta ma perché stai venendo qua? ne sto scendo pure e le conquista vabbè e i mostri ci rilasciamo qua vabbè togliti dalla non fa niente rimaniamo noi due a combattere questi qua tanto devo capire un attimo questo quanto dura le turni loro non mi possono colpire dalla quindi se finchè rimango qua ma ma a chi stanno colpendo? analisa ma tu te ne stai andando? ma la sella l'hai lasciata prendere i paccheri davanti alla porta poi dici a me che te ne vai cioè tu te ne sei andata per fatti due vai a parlare qui come te l'hai risulti ma ecco ok so ma ok pacco un attimo c'è finire la giocata a me di qua non urlare non mi farà ma quando mai a parte a parte che non sono fatti il domenico però se ne sta avanti c'è perché voi tu lui non sapete gestire il gioco no no io mo salvo in un nuovo salvataggio togliamo perché non sto parlando con questo allora te lo dico allora adesso che gli un giorno a settimana solo quel giorno giochiamete a questo gioco insieme perché non sta in grado di stare appresso a questo gioco è la verità è la pura vede come non lo sai fare col dungeon se il dragon normale non lo sai fare neanche con questo è una triste verità qui c'è tutto finire il carro sono morti di fare 22 2 Alla prossima. Alla prossima. Come on, can't stay under. What do I have to lose? I wonder who, or what, those chains are for. Non so quanto dura ancora questa magia. Ma tendenzialmente risurrata. Possono esserci due magie di interdizionale lava? No, no. No, no. Aspettiamo. Voglio venire da te. No, non ho bisogno. Non ho bisogno di una libera metterla. No, non ho bisogno di una libera metterla. No, non ho bisogno di una libera metterla. Non ho bisogno di una libera metterla. Vedi? Vedi? Ping. Abbiamo. No, non ho bisogno di una libera metterla. Non ho bisogno di una libera metterla. No. Innanzitutto ci mettiamo qua. Bravo. Ho trovato buono visto. Ma dove va? C'è un'altra porta. C'è un'altra porta. Ma non c'è un accesso di qua? Perché vanno davanti a quella porta. No, li ho fregati. Dai, questo giro li ho fregati. Dai, questo giro li ho fregati. Dai, vai, vai. E' buono, buono che si è buono da qua? Bravo, bravo. E' un'ottima... Avete fatto un'ottima mossa. Io la porta ma l'apro. E vuoi di fare... Ma ma serio? Mi vede da qua? Ma come facevo a vedere? Non mi può sparare da qua. Ma veramente mi riesce a sparare. Ma non mi interessa proprio. Qua sono morti tutti. Qua fuori sono morti tutti. Però è finita pure la... Dove sta quella fuori? Si sta attaccando? No, sta dall'altra parte. Che vedere è questo! Oh no! Oh no! Grazie a tutti. Tu lo vedi già qua? Ma che devo vedere? Ah, quello è in un'altra stanza. Che devo vedere? Si è nascosto qua. Non c'è un'altra stanza. Non c'è un'altra stanza. Ma stai prendendo la robata? Cosa? Ma chi è questo? Stai rubando qualcuno? Ma sto scherzando questo attacco? Ma chi sei? Ma è riuscito fuori chi è? Non c'è un'altra stanza. Ah, non so chi fosse, ma... Ma c'è qualcun altro? Oh, non so. E mi hai letto d'urlo. Ma è questo? Chi è questo? Si. E mi hai letto d'urlo. 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 Domenico, ma che fai? Mi ha fatto pure la stessa cosa dove? Termina turno! Non è difficile E' un po' di voi L'abora di Wilma, ma che cosa? Ma che cosa? Non è ma puoi girare la cazzo della telecamera dall'altro lato mi sta saltando questo fatto che c'è ping vabbè analisa si sta saltando la telecamera la puoi girare la telecamera è stata proprio la mossa definitiva la mossa definitiva non so come chiamarla meglio è deciso definitivamente per la seconda volta a Will per la seconda volta Will è morto proprio ti voglio far capire una cosa io ho ucciso 12 nemici 12 nemici senza ricevere neanche un cazzo di colpo se è arrivata tu hai ammazzato Will e hai ammazzato quasi tutti quanti la partita con te raggiunge dei livelli di assurdità che io non riesco comunque a me se ingrippato dice sempre ping vabbè molto ma salviamo e togliamo aspetta che possiamo aspettare che se ne va il fuoco è diventata prima brustuliana non lo possiamo andare a salvare se non serve il fuoco uso l'acqua che faccio l'acqua dentro non lascio niente il suo povero Will allora ma non la consuma andiamo a parlare con ma andiamo a stare quando sono morti ci sta il tizio che ce la può risuscitare ma ci abbiamo le parti a me vabbè vabbè fa usare il ca eccola qua ma che stai ah si è spinto andale io sto già vicino a questo ma adesso la leggera va a prendere frecciaci freccia di fuoco no dobbiamo andare un attimo all'accampamento domenica dobbiamo salire di livello possiamo andare all'accampamento facciamo questa cosa ma chi sta in terra chi è? chi sta in terra c'è? 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 guarda vediamo che cosa siamo c'è andato all'accampamento va per dormire? o per salvataggio del livello? non dormiamo facciamo i passaggi di livello ah noi siamo qua vabbè sta in accampamento di quando sta in mese che aveva poco sentito allora seleziona un talento ho un aumento della crescita la caratteristica posso uscire di nuovo solo attore avendo il carisma fino a... no allerta anche se diciamo questa partita con te ne ho un talento diverso che faccio? diventa resistente ai danni contundenti perforanti e taglienti per due turni o produrre fiamma? ehm è un'azione che non ti costa uno otto danni da fuoco a te un fuoco da esserlo a mano vedi non la so evocazione trucchetto mi fa compare una fiamma che proietta una luce intensa entro noi mi implica un di otto da fuoco quando viene lanciata ma già ce l'hai la cosa di fiamma poi in tradizionale lame ce l'ho ce la will non ce l'ho funziona solo su te stessa e per due turni sei faccio questa tu e le altre due che sono? luce l'uncetto e l'altro che cos'è? eh ottieni vantaggio le proprie intrattenere e intimidire intrattenere e intimidire però è un'azione quindi la dovresti fare vedi tu analista il tuo personaggio più o meno capisci tu come sono la disertica addoppia la durata della connessione ferita netta no no due lante difensivo quando sei attaccato con un attacco in mischia mentre impugni un'arma accurata non puoi usare reazione per aumentare di due la tua cosa combattere a due mani ma io già combatto con o combattere con due armi anche se le tue armi non sono leggeri ma non devono essere esperto di danger ottieni vantaggio alle prove di percezione per notare la presenza di oggetti nascosti e devi salvezza effettuati per evitare e resistere alle trappole felace aumento di 1 la tua costituzione fino a un massimo di 20 ah oh aumenta di 1 la tua costituzione fino a un massimo di 20 quando effetti un riposo oh ingallessimi che lanci ignora la resistenza a un tipo di danno a tua scelta oh ma tenace io devo mettere tenace ok oh ma quante ce ne sono e poi alla fine è la stessa cosa di mettere l'aumento della caratteristica perché se faccio tenace mi aumenta anche la classe armatura però tenace mi fa anche che quando faccio il riposo e breve recupero due no e devo fare assolutamente questo corazze pesante non mi serve ma adesso mi rende mai dure fortunato no ma io ho forza tenace senza saperne leggere e scrivere ok va bene va bene se faccio questo ho detto elementare gli incandesimi che lanci gli incandesimi che lanci ignora la resistenza a un tipo di danno a tua scelta quando lanci incandesi che impievo il tipo di danno non puoi tirare un 1 proprio gli incandesimi che lanci ignorano la resistenza a un tipo di danno a tua scelta e che significa fai esamina magari te lo spiega meglio la resistenza i mezzi danni ricevuti allo stai dicendo che quando lanci incandesimi se uno c'è la resistenza a quel tipo di danno la ignora la ignora la resistenza e quindi non dimezza il danno quando lo faccio quando lanci incandesi che impievo il tipo di danno non puoi tirare un 1 tra l'altro dice ehm se no non sapeva che fare ciò vuoi sce ma iniziato alla magia chieri che cos'è iniziato alla magia bardo magari ti attiva le magie apprendi due trucchetti e un incandesimo di livello 1 della lista degli incandesimi del e del chierico ma no del bardo del druido magari puoi prenderti qualche magia del druido apprendi due trucchetti e un incandesimo di livello 1 della lista degli incandesimi del druido puoi lanciare l'incandesimo di livello 1 una volta tra un riposo lungo e l'altro la tua caratteristica di ingandatore per questi tre incandesimi è saggezza tu vai con saggezza giusto? o col carisma vai? no saggezza si pure questo chierico saggezza non lo so potrebbe essere interessante pure questo che ti aggiungi delle magie delle altre magie no no fai guardi non vedi che cosa ti fai guardi non vedi che magie ti fai nuovo trucchetto nuovo scendi giù e ti dice nuovo trucchetto e ti dice nuovo trucchetto fai continua ti fai selezionare i due trucchetti ok struzzore in uso questo è il randello incandato con randello un bastone ferrato diventa magico questo è un po' meno interessante l'altro che cos'è? giusto di spino questa c'è la cosa questo è ti avvicinare il bersaglio a te a 9 metri fanno fruttare e ti avvicinare a te faccio questo e quello è interessante vedi pure vai continuando vedi che magie ti puoi selezionare ti puoi selezionare non ho una magia di cultura in più però proprio no non tiene senso perché però questa sarebbe buona da lontano questa è 18 metri anche le tue non sono da 18 metri no quelle altre che tengo sono da contatto e non ve le posso mai fare un po' la qualitrice questa è la di 18 metri però è un di eh sempre preparato riposo all'ultimo si dica di riposo all'ultimo ehm si eh sempre uno suorchi incandesi ma si bella ecco però questo scusa questo qua premi premi esamina questo è quello che già ti eh prendi quella mischia no hai ragione dice mischia eh no è da contatti infatti quando hai mi guardato allora fanno togliati una cuponata che non usi mai lì e mettiti che l'altra mangiare quella la mano dando tracciate tu non la usi mai questa non la me ne hai fatta mai usare? ogni volta che ho chiesto ma la posso usare? non la posso usare? non la posso usare le magie usa un'altra cosa la mischia vantaggio a passione di dove il cortile il cortile se lo devo do questa questa non la mia protezione se lo devo do questa questa non la mia protezione ho chiesto di usare? no ho cazzo sono le 7 e mezza ho chiesto di usare? ok non la mia protezione ho chiesto di usare... dove c'è la preghiera di guarigione cura un alleato che sei in grado di vedere basta che guardi qua 19 metri come con l'altro momento vicino questo è il 9 metri la salaria e contro memoria perché l'analisa l'integratore non è vero Dardo tracciante. Dardo tracciante. Quadris per la traccia. Alfì, vieni qua. L'altro tracciante lo lasciate, è fortissima Qui Stack che la tracciante è stataplerla, quello del druido che dicevi già c'è, con chiera di guaraggione questa fa 2 di 8 di guaraggione e a 9 metri dobbiamo mettere questa al posto di quella mia che già avevo tolta poi creare di più per l'acqua non di più per l'acqua non di più per l'acqua grazie a tutti